La cognitività determina le seguenti caratteristiche. Primo, comportamento razionale. Secondo, funzione logica e BP. Terzo, visione e BP. Il comportamento razionale si esprime attraverso un ordine composto da concentrazione, attenzione e la coerenza con gli obiettivi. La funzione logica e BP segue un processo di quattro punti. Primo, rievocazione e ricordo delle cose da fare. La capacità di richiamare informazioni passate e ricordare gli elementi cruciali è fondamentale per mettere in ordine e guidare la performance. Secondo, stabilire i punti di obiettivi da raggiungere. Definire i punti prioritari e orientare il controllo e la gestione su di essi e verso la realizzazione. Terzo, formulare una strategia da rispettare. È la capacità di sviluppare un piano che riduca le difficoltà in partenza che preveda con margine di non raggiungere il limite delle nostre capacità e prestazioni. Quarto, inibire le azioni da evitare. È la capacità di inibire comportamenti indesiderati che è fondamentale per evitare le complicazioni e per non perdere il controllo. La visione BPI segue un processo di due punti. Il primo, controllare gli obiettivi durante la performance. Durante la performance, mantenere il monitoraggio costante dei punti prioritari e controllare la traccia strategica prefissata. Secondo, analisi formale e critica e fine performance. Al termine della performance, fare un'analisi formale è una critica dell'attività, così da apprezzare i frutti e imparare dagli errori. Per concludere, la cognitività espressa attraverso il comportamento razionale, funzione logica e BPI e visione BPI assicura a tutti un target elevato di apprendimento continuo e miglioramento personale.